Il giallo di cadmio è un bellissimo colore, però dà dei problemi se noi lo uniamo con dei pigmenti che contengono ferro e zolfo. Quindi niente colori di cadmio e niente terre, naturalmente. E quindi io vi consiglio di crearlo unendo tre colori, ocra gialla, giallo di cadmio e bianco di zinco. Andiamo a vedere. Prendiamo il nostro bianco di zinco, un poco di ocra gialla. E un poco di giallo di cadmio. Ancora del bianco di zinco. E poi, infine, ancora un poco di ocra gialla per scaldarlo. Ora non vi resta che provare. Buona serata a tutte e a tutti voi.